L'ultima ora, anche se effettivamente l'ansia è arrivata solo adesso, sono le 21.18, ma questa esclusiva che abbiamo pubblicato sempre attraverso tutto mercato web alle 18.44, la possiamo vedere attraverso l'ausilio della regia appunto di tutto mercato web, eccola qui, accordo Montella-Catania e addio, erano le 18.44, le conferme arrivano, peraltro ti do una notizia che cominciamo a raccogliere anche attraverso i vari procuratori che stanno gestendo il futuro di Vincenzo Montella, il passaggio di Salifu dalla Fiorentina al Catania potrebbe essere il primo spiraglio per poi... Fa parte del pacchetto, ha detto tutto, abbiamo letto anche tramite tutto mercato web, ricordiamo questo palleggio di notizie quando ovviamente non siamo in onda su Sport Italia, il palleggio tra Sport Italia 24, tutto mercato web, c'è anche l'app, c'è anche l'app, bravissimo, l'applicazione, e su Sport Italia il discorso è questo, che oggi si sono incontrati, come già avevamo detto, questa settimana si apriva con l'incontro tra Vincenzo Montella e Sergio Gasparin. Si sono incontrati alle 18.30, è finito il summit, si sono lasciati ovviamente benissimo, la società è Montella, Montella ha lasciato Catania, non per scappare da Catania, così come ha sottolineato, per cercare di migliorare la propria posizione. La Roma era davvero molto molto interessata a Vincenzo Montella, perché Montella non è andato alla Roma, bensì è andato, io dico già è andato, anche se tra poco Marilena vedo che sta parlando con il direttore della Fiorentina, Prade, ci dirà qualcosina in più Marilena, però volevo finire questo discorso, perché Montella doveva andare alla Roma, di fronte ad una proposta fatta da Sabatini e Baldini. Poi si sono create due circostanze, che Montella è stato contattato da Prade, perché entrambi, Prade e Montella, sono uomini, per intenderci, della famiglia Sensi, è il gruppo della Roma storica dei Sensi, Montella, Prade, ovviamente Conti, questi sono personaggi da Roma, dalla vecchia Roma. Montella allora a quel punto, una volta saputo della possibilità di andare a lavorare con Prade alla Fiorentina, ha messo dei paletti alla Roma dicendo, ok, voglio gli stessi soldi che avete dato a Luis Enrique, voglio questi giocatori, voglio tot anni di contratto. In poche parole, ha obbligato la Roma a cambiare obiettivo e ad andare su Zdenek Zeman. Zeman, che da questo pomeriggio è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma per due anni. Lo presentano domani alle 17. Lo presentano domani, Zeman alla Roma. Montella aveva questo accordo con la Fiorentina nel momento in cui della Valle avevano scelto Prade. Prade ha chiuso l'accordo con Montella, però Montella doveva trovare comunque la buona uscita con il Catania. Oggi hanno trovato la quadratura del cerchio, è arrivato comunque l'annuncio dell'addio di Montella al Catania. 24-36 ore arriverà l'annuncio di Montella, nuovo allenatore della Fiorentina. A Firenze sono partiti con il piede giusto, però lasciami dire che io sono convinto di una cosa, sono stracovinto di una cosa, che Gasparin sta iniziando a Catania insieme al direttore sportivo Nicola Salerno, un lavoro eccezionale. Io ho una grandissima stima nei confronti di Sergio Gasparin per quello che ha fatto a Udine, per quello che ha provato a fare a Genova, ma non gliel'hanno consentito alla Sampdoria e poi si è vista come è andata la situazione alla Sampa lo scorso anno. Gasparin è un uomo di bilancio, è un uomo di finanza, è un uomo di calcio, è un uomo che comunque sa come gestire il calcio, soprattutto con i bilanci in attivo. A questo punto mi aspetto un colpo in panchina a Catania, non sarà ficcadenti perché ieri hanno confermato che resta a Cagliari, presumo che alla fine ci sia l'ipotesi Pasquale Marino in un pole position, lui che conosce molto molto bene Catania. Però da Salerno e da Gasparin mi aspetto dei colpi importanti per la piazza di Catania con i tifosi che saranno assolutamente felici di questo mercato che si sta per aprire ufficialmente, che si aprirà domani per il Catania. Nei prossimi giorni faremo anche un giochino, il tassello degli allenatori, avremo modo di conoscere e vedere tutti gli allenatori della Serie A e non solo Marilena, tu hai sentito Pradè, vero? Sì, ho sentito Daniele Pradè che mi ha confermato ovviamente la risoluzione del contratto di Vincenzo Montella con Ilaia Catania. Per quanto riguarda invece la Fiorentina mi ha detto noi siamo sulla buona strada, l'ho sentito piuttosto sereno, quindi sarà questione di ore Vincenzo Montella, nuovo allenatore della squadra viola. Non siamo sulla buona strada perché ovviamente Pradè fa il gioco delle tre carte e a Marilena che giustamente punge sulla vicenda Montella fa la domanda giusta, Pradè cosa può rispondere? Pradè già ha fatto tutto con Montella, Montella non è ufficiale, domani lo sarà così come ieri lo era, Zeman alla Roma, domani Montella alla Fiorentina, quindi è tutto fatto.